Galleria, Reggiana, Riozzese e Bardolino, vince naturalmente Bardolino Il premio al Presidente Bardolino lo vogliamo consegnare, eccolo qua carina Naturalmente al Presidente si chiede sempre quanto costa una stagione come questa Quanto costa il Bardolino? Ma una domiciana di vino rosso e una di bianco Questa è una barra, anche con le grosse No per dare un'idea, anche naturalmente voi più o meno conoscete le vostre cifre Però io che sono meno, quello più profano, voglio dire un campionato così importante Come quello del Bardolino con vittoria del campionato, del Coppa dei Campioni Da protagonista Ma io dico una cifra che va da A, da A, da 0 a 5 Ho capito, di 5 ho capito cosa vuol dire, 0 non l'ho capito 3 complimenti al Presidente del Bardolino Grazie